Nuvola Zero è una startup innovativa, operativa dal 2021 nel mercato online. In soli due anni però siamo riusciti a entrare nel mercato della grande distribuzione e delle catene alimentari offline. La missione di Nuvola Zero è rispondere ad un'esigenza del mercato Free From, con una linea di prodotti già pronti al consumo che contengono 0 carboidrati, 0 lattodio, 0 zuccheri, 0 glutine e 0 lieviti naturali. Ci siamo quindi subito resi conto della potenzialità di questo prodotto, anche perché è l'unico al mondo. Ecco perché abbiamo brevettato il processo industriale e abbiamo brevettato due ricette nel 2020. E ad oggi abbiamo ottenuto i quattro brevetti e registrato 24 marchi, tra cui il popolarissimo Cloud Bread, diventato fenomeno virale sui social nel giro di pochissimo tempo, neanche due anni. La nostra linea si compone di prodotti da forno già pronti al consumo, se dolce che salati. La linea salata di sostituti del pane comprende pane zero in tre gusti differenti e lo snack zero con il 43% di parmigiano reggiano stagionato al suo interno. La linea dolce, invece, è composta da tre gusti di dolce zero, quattro gusti di plum cake zero, ciambella zero con granella di cacao e disco zero al cacao. Abbiamo inoltre creato una linea di prodotti in polvere da poter preparare a casa, molto versatili e adattabili a molte ricette. Pancake zero, pan grattato zero, piadina zero, farina zero e pizza zero sono marchi registrati e fanno parte della linea di mix in polvere. Il mercato del FIFROM in Italia e in Europa sta vivendo un momento di ampissima crescita, anche grazie alla continua esigenza di persone che hanno problemi di allergie e di alimentazione, oltre che quelle persone che sono più attente alla linea. In Italia non esiste una vera offerta di un prodotto realmente zero carboidrati e zero zuccheri. Abbiamo infatti solo dei low carb o di senza zuccheri aggiunti. Quindi è proprio per questo che Nuvola Zero al momento non ha competitor, proprio per questo. Con i fondi raccolti vogliamo rafforzare il nostro team e gestire l'ingresso di nuovi clienti e la crescente domanda. Investire in ricerca e sviluppo e nuovi macchinari per ampliare la nostra linea di prodotti e rendere sempre più felici i nostri fidelizzati clienti. Investire nel marketing per rafforzare sempre più il nostro brand, non solo in Italia ma anche nel mercato europeo dove siamo già presenti con city commerce e alcuni distributori retail. Il successo di Nuvola Zero però non è dato solo dai suoi prodotti completamente innovativi, dai nostri quattro brevetti, dai 24 marchi, dal famosissimo Cloud Bread che è diventato fenomeno virale in pochissimo tempo. Il successo di Nuvola è anche dato dalla professionalità del proprio team e dall'unione che il team ha e l'esperienza che ha avuto anche in altre avventure imprenditoriali. Tutto questo ci è stato riconosciuto anche vincendo prestigiosi bandi internazionali ed europei e siamo stati anche premiati alla Camera dei Deputati l'anno scorso come una delle aziende agroalimentari più promettenti a livello italiano facendosi conoscere anche una partnership con il mercato americano proprio perché i nostri prodotti sono unici al mondo.